una bambina dove oh papà ok ok va bene così a posto torniamo con Elena allora ragazzi abbiamo qua Elena direttamente da Milano anche noi ottimo ciao Elena oh mi ha scritto mio padre vediamo ti ho detto no ti ho detto che sei ubriato ma sto scherzando ma ho sbagliato a parlare papà ma non volevo dire che mi ha dato una puttana ma figurati ho sbagliato a parlare voglio dire un'altra cosa ma figurati mi ha scritto perché non no dici cosa ti ha scritto perché non dici che la puttana che ti ha creato è che quella che ti va a vestire e pulisce casa sbronzo alle 6 di sera mi sto vergognando di te come mai fino ad ora e ce ne vuole ma dai ma papà ma sto benissimo dai stiamo scherzando ho bevuto un drink e mezzo ma sto facendo il content sono super sobrio basta madonna se trovo pretettivo non è da gelare ho 21 anni ho le mie capacità scusami sto parlando con mio padre sono a postissimo lo sto facendo per il content abbiamo 5.000 persone che stanno guardando in questo momento lo sto facendo per il content figurati allora allora ciao 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 ciao